Ah, accidenti, che bella dormita che sono fatto. Buongiorno, Rebo Dash. Rebo Dash, forse ti avevo già insegnato come si apre il barattolo, da qui che te lo apro io. Ecco. Ehi, ciao Mickey Pie. Scusa, ma oggi non ho la voglia di parlare con te, mi dispiace. Finché fai? Ma come sei arrivata qui in cucina così in fretta? No, scusa, non riesco a capire di quello che stai dicendo. Scusa. Oh, mamma mia. Perché ci sono due Pinkie Pie? No, forse è soltanto una mia illusione che ho mangiato troppi cereali a colazione. Certo, accidenti. Pinkie Pie. Just a hunch. Non può essere vero. No, non può essere vero. Vada da me a casa, per sta l'ero, per sta l'ero Pinkie Pie. Ahhhh, Pinkie Pie. Ahhhh, ahhhh. Ahhhh, ah. Ahhhh. Ah, meno male, è stato soltanto un brutto sogno. Buongiorno, Rebo Dash. Ah, ciao, Pinkie Pie. Ciao, Nicola. Ho fatto un incubo pazzesco. Diceva che... Scusami, Pinkie, ma qualcuno mi sta telefonando. Sì, pronto? Ok, arrivederci. Dicevo, Pinkie, l'incubo è... Oh, pretty! Non può essere vero. Dicevo... Oh, mamma... Oh, eh, ah, ah, ah... Diceva che... Oh, Guti! Ci, ti sei... Grazie a tutti.